Oh, oh, oh! Chi non ha studiato quest'anno? Riceverà da Babbo Natale freddo un ghiacciolo invece di un regalo e un pezzo di carbone da Babbo Natale caldo. Severo ma giusto! Il Natale è il periodo più bello dell'anno, pieno di miracoli e regali. Così abbiamo deciso di rivelarti un enorme segreto. Non c'è un solo Babbo Natale al mondo. C'è un caldissimo Babbo Natale con il laso rosso per il caldo. E c'è anche un freddo Babbo Natale, un vero esploratore polare. E sono pronti per iniziare la loro missione proprio adesso. Se vuoi passare una buona giornata, devi darti una lavata. Una doccia rinfrescante ti aiuterà a metterti di buon umore per il resto della giornata. Solo il concetto di freschezza è diverso per tutti. Babbo Natale caldo, ad esempio, preferisce il vapore al bagno. Aggiungi più vapore! Il vapore caldo è perfetto per pulire i suoi pori. Oh, acqua bollente, perfetto! E la pelle è così morbida dopo che non serve mettere la crema. Anche il Babbo Natale freddo si preoccupa dell'igiene. Adesso posso fare la doccia. Ma preferisce l'acqua fredda. Fare una doccia calda? Mai! Inoltre, il ghiaccio ti ringiovanisce. Babbo Natale freddo sogna di rimanere giovane per sempre. E potrebbe riuscirci. Dopo la doccia bisogna prendersi cura dei denti. Babbo Natale caldo sa che i denti devono essere lavati per almeno 5 minuti. Conosce anche tutti i vantaggi del dentifricio a base di carbone. È come una magia. Il carbone è nero, ma i denti sono bianchissimi dopo averlo usato. E per migliorare l'effetto puoi persino riscaldare il carbone. Mmm, che rinfrescante aroma di carbone! Ora potrebbe anche fare il modello di idee. Adesso Babbo Natale caldo è pronto per portare la felicità ai bambini di tutto il mondo. A differenza del suo collega, Babbo Natale freddo è convinto che dovrebbe uccidere i batteri della sua bocca con il freddo. Non solo freddo, ma ghiaccio! Ecco perché il suo spazzolino da denti è un ghiacciolo. Non c'è niente di meglio dell'acqua sciolta. Germi, attenzione! Attente anche voi, signore! Finalmente i Babbo Natale sono andati al lavoro. La prima casa è sempre super eccitante. Dopotutto, il modo in cui inizi la giornata definisce tutto il resto. Babbo Natale caldo sembra essere fortunato. Tutto è pulito e ordinato. Il nonno è felice. Si capisce subito che in questa casa ci vive un bravo ragazzo. Aiuta i suoi genitori. Studia sodo. Ciò significa che riceverà dei bei regali. Ecco fatto! Bellissimo! Aspetta, ci sono sorprese più piacevoli. C'è una sorpresa per Babbo Natale sul tavolo. Del latte? Per me? Che bambino dolce! Oh, penso che il latte stia bollendo. Le mani di Babbo Natale sono troppo calde. Oh, va bene così. Più è caldo, meglio è. Mmm, adoro i biscotti al cioccolato. Tutti i Babbo Natale usano lo stesso database. E a volte gli indirizzi vengono duplicati. Così il Babbo Natale freddo si ritrova accidentalmente nella casa dove è appena stato il suo collega caldo. Oh, l'albero di Natale è fantastico! Oh, un tavolo con dei dolcetti! Latte e biscotti! Sto sognando! Datemi un pizzicotto! È la merenda preferita di Babbo Natale. Cosa che non potrà godersi oggi. Che peccato, è congelato! Non c'è tempo per estrarre il ghiacciolo di latte dal bicchiere. Anche gli altri bambini aspettano i regali e non possono rimanere delusi. Il Natale è in pieno svolgimento. Babbo Natale caldo ha visitato molte case e ora è stanco. Ma quello che vede in un'altra casa è come un campanello d'allarme. Le luci di Natale sono spente? Com'è possibile? Uno, due, tre! Ehi, accendiamo l'albero di Natale! È stato risolto un problema. Ed ecco il prossimo! Il caminetto è spento. Ehi, perché non sei acceso? È un bene che niente sia impossibile per questo vecchietto. Con tutte queste luci le feste vengono salvate. Ma non è tutto. Non riescono nemmeno ad accendere le candele. Cosa c'è di sbagliato in loro? Babbo Natale risolve anche questo. Sentendosi orgoglioso di se stesso va nella casa successiva. Senza sapere cosa ha combinato. Oh no! A causa delle luci calde la torta si è quasi sciolta. Il Natale è un periodo impegnativo e si verificano errori con i database di Babbo Natale. Ma a volte è meglio così. Sembra che la casa non abbia ancora ricevuto i regali. Ma come faccio ad entrare? È un bene che Babbo Natale freddo sappia cosa fare. Se non puoi entrare dal camino, entra dalla finestra. Ecco, Babbo Natale è nell'edificio. Oh, che caldo! Si è sciolta anche la torta. Chi tiene i dolci a questa temperatura? Spegniamo il fuoco del caminetto. E le candele. Aggiustiamo e raffreddiamo la torta. Sono arrivato giusto in tempo. I proprietari non se ne accorgeranno nemmeno. Inoltre questo albero di Natale non è molto festoso. Un po' di neve non farà male. Ecco, la fredda missione è finita. Ma Babbo Natale ha ancora molto da fare. Babbo Natale freddo corre fuori dalla casa calda come un gatto su un tetto di lamiera rovente. Così veloce che è persino riuscito a superare il suo collega caldo. Finalmente posso lavorare in pace invece di coprire quella piccafuoco. Ops, questo non doveva succedere. Babbo Natale, sei tu? Babbo Natale non deve incontrare i bambini. Ma questa ragazzina è molto tenace. Ehi, non ti lascerò andare finché non avrai esaudito tutti i miei desideri. E sono un sacco. Voglio... Ehi, cos'hai che non va? Ops, sembra che si sia trasformata in ghiaccio. Puoi scommetterci. Le ginocchia fredde di Babbo Natale sono come un congelatore. Oh oh, così non va. Ehi, Babbo Natale, la lasci lì così. Nessuno è perfetto. Ma il Babbo Natale caldo arriva in soccorso appena in tempo. Oh mio Dio! Stai gelando! Il suo alito caldo la riporta rapidamente in vita. E tutto si risolve. Ma non andrai da nessuna parte. Dai, siediti e ascolta i miei desideri. Babbo Natale ascolta attentamente. Ma aspetta, da dove viene questo odore? Stiamo bruciando? Qualcuno mi aiuti! Sì, sedersi sulle ginocchia del Babbo Natale bollente non è una buona idea. Ecco perché i bambini scrivono lettere a Babbo Natale invece di chiedere i regali di persona. Quello che è successo nell'ultima missione sta rendendo triste il Babbo Natale freddo. Come ho potuto farlo? Non sono un buon Babbo Natale. Ma il Babbo Natale caldo sa come sostenere il suo collega. E l'atmosfera tesa si fa calda. Cosa vuoi che ti dica? Vorrei non averti mai incontrato. Ops. Quando i Babbo Natale litigano la situazione è grave. Il Natale è forse in pericolo. Ci sono problemi con il database. E questa volta i Babbo Natale si sono incontrati. Due Babbo Natale in una casa sono come due cuochi in una cucina. Che tipo di decorazioni sono queste? Oh! Le tonalità fredde sull'albero di Natale stanno male. Non c'è problema. Il Babbo Natale caldo sistemerà tutto. Altri ornamenti rossi? Molto meglio. Ma il Babbo Natale freddo non ama le decorazioni calde. Dei ghiaccioli rossi? Dove si sono mai visti? Altri ornamenti bianchi come la neve. Adesso è bello. Un design freddo. Questo è ciò che serve. Ehi, chi sta facendo magie senza la licenza? Sei entrato nel territorio di qualcun altro e hai messo del ghiaccio sull'albero? Io sarei quello che ha fatto irruzione? Stai rendendo tutto rovente senza motivo. Oh! Sembra che sia stata l'ultima goccia. Ti congelerò! Ti brucerò! È ora che i Babbo Natale parlino seriamente. Risolvere i problemi con la violenza non è mai un bene. Oh oh! Cosa succederà adesso? Ehi, cos'è quel rumore? L'albero di Natale ha svegliato la bambina. Quindi oggi non ci sarà il Natale? E io avevo lavorato sodo per decorare l'albero. Oh no, una bambina che piange alla vigilia di Natale è una cosa molto triste. Sshh! Calmati! Nessuna lotta vale le lacrime di una bambina. Non piangere. I Babbo Natale sistemeranno tutto. I Babbo Natale si uniscono. L'albero è di nuovo in piedi e la bambina riceve un'intera montagna di regali. Due set. Uno caldo e uno freddo. Wow! Adesso credo di nuovo nella magia. Non abbiamo fallito la nostra missione. Allora, facciamo dei selfie? Sorridete! Buon Natale! Ti è piaciuta la nostra storia di Natale su Babbo Natale caldo e Babbo Natale freddo? Quale ti è piaciuto di più? Diccelo nei commenti! Metti like a questo video, iscriviti al nostro canale e fai click sulla campanella per non perderti altri sketch sulle feste su Troom Troom Wow!